ok vediamo subito che cosa succede Assassin's Creed Brotherhood, siamo a Mont Saint Michel ho preso il masnadiero, lupo bellissima mappa questa eccola, 15 ok eccola qua salvez via via sei al comando eh no dispiace incognito scosto pugniere ecco Oh! Mamma mia! Vabbè, provate a stupirlo, ho visto che era lui, ma niente. Va bene, va bene, va bene, va bene. Devo scappare. Ho fatto una minchiata a tirarlo. Consigliere del quartiere, vi fa sapere a tutti! Incognito! Eeeh, ma visto! Contratto perso. Eeeh, ma visto! Eeeh, ma vista, esferaterà la ter latina. Non, no, 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 no. No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! Eeeh, ma vista! Ii... I... Oma... I... e se fanno così ciao è la chance è meglio di scappare ciao è scappare Eh, t'ho visto, t'ho visto, non ti preoccupare. Eh già. Non è... Allora, vediamo un attimino. Ancora la bussa si deve riempire, qui non c'è nessuno. Ma io. Come si dici tu? Ah, eh, eh, vabbè. Pensavo che non mi avesse visto. Vabbè, è stupido io che non l'ho visto proprio per niente. Non importa. Comunque è un gran gioco. Differente di Black Flag, è un pochettino più legnosso, movimenti, ma è molto bello. Molto, molto bello. Oh, 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 oh. Eh, no. Niente, la bomba fumogena non l'ha fermata. Pazianza. Quella bomba fumogena è un po'... Un po' ballo, guarda. No. No. No, mi dispiace. Bellissimo. Oh, bellissimo. Chain. Per ora di scappare. Eh, sì. Vabbè, 150 punti. Perché? Non è che mi spaventa. Non è che mi spaventa. Ah, no. Vediamo un attimino. Ah, la bomba fumogena si è ricaricata. Perfetto. Allora. Contratto perso. Non ti accarichi. Opla. No. Errore. Eh, non l'hai visto. Mi spiace. 750. Questa mi è piaciuta. Eh, non l'hai visto. Eh, non l'hai visto. Mi spiace. Eh, un bel incognito ci vuole. Nooo, mi ha visto. Mi ha visto. Vabbè. Mi ha visto. Mannaggia. Eh, vabbè. Allora. No, però, che cavolo. La bomba fumogena dovrebbe fermarlo. Non lo ferma. Vabbè, l'unico che sa giocare è questo. Perché poi abbiamo casto. Ti hanno assorbito. Ma se io sta... Contratto perso. Vabbè. 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 La partita terminerà fra un minuto. Ok, quello è morto. Ma questo lui non l'ha visto. Salve. Eh, non l'ho visto neanche io. Eh, 700 punti, cavolo. No, no, no. 30 secondi al termine. Eh, sì. Eh, vabbè. Va bene. Vabbè, è andata, dai. Per fortuna è andata. Sì, è molto più difficile. Sei arrivato primo. Ah, bella sassoncina. Via. Allora, fa vedere incogniti. 5 incogniti. Bene, non vale. Eh, lui ne ha fatti un pochettino di più. Beh. Allora, per oggi è tutto. Alla prossima sessione di Assassin's Creed Brotherhood. Un saluto. E oh. A presto. Allora, per oggi. Ciao.